Guster, Yali Wang e Why I'm Not a Basketball Player di Alan Wainstock che invitiamo sul palco, dovevano già partire, eccoli qua, adesso arriveranno Dorotea e Alessandra, facciamo salire i registi così possono ritirare anche loro una targa Piedecal, Bordo Campo, Andrea, come here, on the stage, Gaza, One Football on One Land, il Toro del Palonetto, Into the World of Serum, Old Boys, Reading of the Storm, Systemic Injustice, Tuva, Yali Wang, Why I'm Not a Basketball Player, grazie di essere qui, Facciamo girare le targa, così, e riconosci il tempo, fantastico, amazing, thank you, Why I'm Not a Basketball Player, sono tutti dei film che hanno, lei si capisce, io, 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 perché consegniamo le targa già direttamente a tutti i registi, perché possono, naturalmente, avere un ricordo di questa partecipazione ecco, bellissimo, così i fotografici possono, naturalmente, portare anche questo momento bellissimo con tutte queste produzioni provenienti da tutte le parti del mondo, dall'Italia, comunque al Canada, alla Cina, alla Corea, anche, ha partecipato, noi abbiamo avuto oltre 150 film concorrenti e tra questi loro sono rientrati nei primi 30 film che hanno partecipato. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Yeah, di più vuoi. Chi lo vuole, gli scambi, eccolo. La piazza di più. Why I'm Not a Basketball Player, grazie. E allora adesso è arrivato un altro momento molto emozionante perché vediamo, però qui ci devo dire due paroline anche se brevissime. Questa estate Vito Maggio mi ha chiamato per dirmi, visto che stavamo preparando questa edizione mi ha detto Roberto tu hai visto questo film Il caso Fantani? E io dissi no Vito, non l'ho visto. E mi ha detto valla a guardare.